ciao ragazzi oggi vediamo come modificare un articolo inserito con un template siccome alex me lo chiedeva non abbiamo mai tempo per incontrarci per fare delle lezioni vediamo di almeno gestirci in questo modo allora mettiamo che io ho l'esigenza come mi chiedeva alex di fare un calendario per una determinata categoria di squadra di sport o quello che vogliamo allora cosa faccio vado nei miei contenuti io ora creerò un nuovo articolo voi potete modificarlo tanto il procedimento è lo stesso crea un nuovo articolo vado come al solito inserire mio template scelgo calendario partite mi chiede chiaramente la conferma certamente ecco qua allora questi sono già tutti i dati inseriti sono i soliti che vi trovate davanti però chiaramente potrebbero non rispecchiare quello che vogliamo fare per cui possiamo modificare le tabelle cancellarle eliminarle riscrivere fare quello che vogliamo come facciamo ora mettiamo che questo è un campionato di dilettanti di qualche di qualche categoria non chiedetemi quale vogliamo per esempio togliere un tot di squadre perché magari nel nostro girone non ne abbiamo così tante come faccio basta che clicco su dopo l'ultima lettera dell'ultima squadra che mi serve quindi clicco in questo punto trascino il puntatore fino all'esterno della tabella ok modo da selezionare tutte le squadre che non mi servono e clicco il tasto canc o indietro nel caso dei mac ecco qua fatto questo punto ci troviamo meno squadre sono quelle che servono questa operazione viene fatta chiaramente su tutte le tabelle che mi servono semplice da fare fino all'esterno e cancello adesso su dall'ultima fino all'esterno della tabella e cancello benissimo abbiamo capito come fare a togliere il numero di squadre ora ammettiamo che il campionato non arriva alla quindicesima giornata quindi ho bisogno anche di eliminare una tabella non solo le squadre semplice anche questo clicco l'esterno trascino fino alla fine della tabella vedete che mi escono i quadratini di selezione cancella ecco fatto stessa cosa dall'esterno della tabella seleziono fino all'esterno cancello ancora una benissimo dall'esterno fino all'esterno cancella ecco qua abbiamo modificato quello che ci interessava ora come al solito gli si dà il titolo al calendario e vado a metterlo nella categoria che mi interessa pulcini basta che ora salvo o salvo e chiudo se voglio chiudere direttamente l'articolo mi sembra abbastanza chiaro e parecchio semplice